Ribaltata la sentenza in primo grado per il processo della discarica dei veleni di bus, i WWF come si dice? Ma è soddisfatto, non certo per le condanne di per sé, perché ci dispiace comunque che qualcuno debba essere condannato per qualche cosa, ma è un fatto importantissimo che sia stata stabilita la costruttività del reato e sia stato stabilito il principio che chi inquina paga. Questo è fondamentale, lo stavamo chiedendo da tantissimo tempo, adesso occorre stringere i tempi e arrivare veramente alla bonifica perché non si può più andare avanti così, sono passati troppi anni, con una vicenda giudiziaria abbastanza sconcertante anche per i tempi che ha comportato, adesso ci siamo, c'è una condanna in appello, c'è un principio sacrosanto del sancito, occorre passare ai fatti e disinquinare, restituire agli abruzzesi un territorio finalmente sano. Dieci anni per arrivare a questa sentenza e soprattutto adesso quanto si dovrà attendere per la bonifica secondo voi? Speriamo poco, ma questa non è una domanda che puoi fare a noi, nel senso che noi ci stiamo da anni chiedendo questa cosa e tra l'altro chiediamo anche un'altra cosa con grande forza adesso, occorre che si faccia finalmente un'indagine epidemiologica per sapere se e come e quando qualcuno ha avuto dei problemi dall'acqua contaminata che comunque abbiamo bevuto.